Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un supporto che può essere utilizzato in meccanica, in elettronica, per modellismo e può essere utilizzato da chi costruisce oggetti e deve sostenere e bloccare piccole parti. E' in metallo e può scorrere lungo l'asse verticale. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video. Se volete potete anche iscrivervi al nostro canale. Grazie. 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 Grazie.